I ragazzi sono molto determinati, come diciamo da tempo, la nostra forza è il gruppo, quindi sono molto concentrati, tengono molto a questa competizione. Oggi abbiamo avuto qualche assenza, però chi ha giocato l'ha fatto il migliore dei modi. Mi sembra che abbiamo cominciato bene, però il girone è molto duro. Cosa rappresenta la Serie A per un club come il Parque, che ha 220 ragazzi nelle scuole tennis? La Serie A sappiamo bene che è il fiore all'occhiello della nostra attività, quindi come diciamo sempre un volano, un traino per questa nostra scuola tennis. La presenza è stata molto buona, oggi hanno esordito due ragazzi, seppure in panchina, speriamo che possano farlo sul campo nelle prossime partite. È un esordio abbastanza agevole, come hai detto te, è iniziata molto bene questa Serie A, mi fa sempre piacere di tornare qua al Parque, di riuscire a giocare ogni partita al meglio come ho fatto oggi. Sono nostri amici, praticamente i soci, e mi fa piacere accontentarli vincendo le mie partite, quindi speriamo di poter portare un altro scudetto per accontentarli ancora di più. C'è arrivato al termine di questa stagione, quindi un bilancio complessivo, devo dire che è stata un'ottima stagione, con un po' di alti e bassi, però ovviamente ci devo ancora lavorare, sono ancora giovane, quindi credo che sia stata una bellissima stagione che mi ha formato tanto sia tennisticamente che mentalmente. Con me ogni anno vincere lo scudetto è molto complicato, si parte dal girone lungo sei giornate e si deve costruire piano piano questo sogno e obiettivo del circolo. Fortunatamente siamo una squadra molto unita, coesa, da un po' di anni che giochiamo assieme, speriamo bene.